I nostri simpatici seminaristi ci hanno accompagnato in questo viaggio attraverso la Messa per poter arrivare di tappa in tappa nel Regno di Dio, cioè alla comunione con il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Siamo qui in Chiesa e c'è questo libro che si chiama Messale, dove il sacerdote trova tutte le preghiere giorno per giorno che sono necessarie per celebrare la Messa. Ci sono le preghiere per le feste, in modo particolare le domeniche, e poi per le feste più feste che sono le solennità. Di tutte le preghiere che sono contenute qui, una preghiera è con la maiuscola, è la preghiera delle preghiere, è la preghiera eucaristica. Vi vorrei dire il significato di queste due parole, preghiera e eucaristica. Eucaristia vuol dire rendimento di grazie. Si dice grazie mentre si proclamano le grandi opere, le meraviglie che Dio ha fatto per noi. Proclamare vuol dire con un cuore grato riconoscere tutte le grandi azioni che il Signore ha fatto nella storia. Diventa una storia di salvezza quella di Dio con il suo popolo, perché Dio non ha mai mancato all'appuntamento, Dio è fedele alle promesse e le grandi opere di Dio che vengono ricordate quali sono la creazione del mondo, dell'uomo maschio e femmina e poi l'invio che Dio ha fatto di personaggi grandi come Mosè che ci ha dato le dieci parole di vita e poi i profeti. Ma ciò che dobbiamo anzitutto ricordare è quell'opera meravigliosa di Dio Padre che è stato mandarci nel mondo il suo figlio Gesù. E Gesù ha abbattuto tutte le barriere che ci separavano da Dio, in modo particolare il peccato, il male e la morte e ci ha permesso il passaggio al Padre. È la sua Pasqua. La Messa ricorda la Pasqua di Gesù, la sua morte, la sua sepoltura, la sua risurrezione, la sua ascensione al Padre e dove adesso lui è con il Padre, alla destra del Padre. Ma da là Gesù fa ancora per noi un dono veramente meraviglioso, quello di chiedere al Padre di inviarci il dono dello Spirito, che è il dono dei doni, perché attraverso lo Spirito Gesù risorto, vivente, è presente in mezzo a noi, in modo particolare nella comunità radunata. Questo è il significato della parola, del termine Eucaristia. Mentre ricordiamo le grandi cose di Dio, gli rendiamo lode, gli rendiamo grazie. Ma voi vi immaginate uno che perde la memoria? Noi diciamo uno è smemorato, non sa più chi è, perde la sua identità. Vi immaginate se il popolo di Dio, che siamo noi, perdesse la memoria di quello che Dio, nostro Padre, ha fatto lungo la storia per il suo popolo, per noi perderemo la nostra identità. Per noi l'appuntamento della domenica è un esercizio della memoria per non perdere la nostra identità, per non rischiare di diventare degli smemorati. E adesso finalmente arriviamo all'altro termine che volevo spiegarvi, e cioè preghiera. Noi abbiamo detto Signore ti ringraziamo perché ci ricordiamo che tu per noi hai fatto questo e questo e questo e questo. E allora gli diciamo adesso per noi che siamo qui ancora raccolti, riuniti e abbiamo bisogno assolutamente di te, di essere salvati, di essere uniti a te che sei il nostro Dio, noi ti chiediamo, ti supplichiamo, ti preghiamo con un desiderio forte, mandaci il tuo spirito. Perché è il dono dei doni che ci rende presente oggi nella comunità, il Signore Gesù risorto, vivente, che spezzerà ancora per noi il suo pane che diventa corpo che ci nutre e che ci trasforma, perché anche noi potremo diventare corpo di Gesù. Ecco la preghiera eucaristica, memoria grata e supplica forte perché lo spirito ancora oggi porti avanti quell'opera grande che Gesù ha realizzato nella Pasqua. E allora vorrei concludere ricordandovi il significato di un'importantissima parola, celebrare. Celebrare vuol dire portare a compimento. Quello che Gesù ha iniziato a fare nella sua morte e resurrezione e che continua qui, quando siamo nella liturgia, per portare a compimento, cioè per far crescere sempre di più quel popolo di figli che per la gloria del Padre, dietro a Gesù, camminano in quel viaggio che li porta fino al Regno dei Cieli, che è un regno di felicità, perché Dio sarà tutto in tutti. Regno dei Cieli